Ti piacerebbe preparare piatti sani e squisiti in modo semplice e senza dover stare ore in cucina? Vi presentiamo l'ultima eccezionale tecnologia per la vostra cucina, il frutto di anni di ricerche per cucinare piatti più buoni e più sani. Testato scrupolosamente e presentato dallo specialista di cucina Josef Pepi Rossler e dall'esperto Horst Fuchs, la coppia numero uno delle vendite televisive. Scoprite adesso il connubio perfetto tra funzionalità, design e qualità. Provate il vero risparmio energetico in cucina e la migliore tecnologia sul mercato. Scegliete sempre il meglio! Cucinare, cuocere, friggere, grigliare, cuocere a vapore, arrostire, congelare, riscaldare per tenere caldi i piatti. Tutto è possibile! Restate con noi e scoprirete la straordinaria potenza del calore alogeno distribuito in maniera tridimensionale. Scoprite come cucinare, arrostire, infornare, grigliare, cuocere al vapore e friggere in uno, due, tre, con una cucina perfetta in metà tempo! Niente è come lui! Scoprite un nuovo modo di cucinare, che non è solo sicuro, pulito e straordinariamente semplice, ma ha inoltre un design che offre anche la più pratica soluzione per risolvere i problemi di spazio. Fatelo per voi! Il 3D Power Wave. Cucinare da professionisti. Salve, un caldo benvenuto nello studio di Power Wave. Come al solito sarà Peppy Rossler che vi mostrerà qualcosa di sensazionale. Sì, Orsto, il 3D Power Wave è davvero straordinario. Non avrete mai visto niente di più sensazionale. Tutti voi, signori e signori, resterete stupiti. Grandioso! Puoi utilizzarlo per ogni tipo di cottura. Bollire, friggere, cuocere o grigliare. Puoi addirittura friggere usando solo aria calda. Tutto ciò che avete sempre sognato in cucina. Una cucina più sana e semplice. Guarda qui. Signori e signori, quello che vedete è il calore alogeno, concentrato e distribuito su tre dimensioni, che vi dà la possibilità di cucinare in mille modi. È 100% sicuro grazie a questi due manici a termici che ti permettono di utilizzarlo anche per servire, se vorrai. Qui sopra c'è un meccanismo di sicurezza. Se lo aziono, il forno si spegne. E lo stesso se alzo la maniglia e sollevo il coperchio. Qui c'è il timer. Quando il timer arriva fino in fondo, c'è un segnale acustico che mi dice che è pronto. Perfetto. E quello che troverete è il vostro squisito arrosto di tacchino. E cuoce benissimo anche il maielino al forno. Fantastico. O un roast beef e una bistecca ad agnello. Lascia che ti mostri. Guarda qui. Wow, guardate qui. La crosta è croccante, ma la carne è rimasta tenerissima. Una cosa quasi impossibile normalmente da fare. Guardate che piatto. È stato facilissimo. Fantastico. Il coltello ci scivola dentro. Guardate qua al centro. Proprio come dovrebbe essere. Se un arrosto è così bello, tranquilli, che è anche buono. È incredibile. Sapete che ci sono delle regole in cucina, no? E bisogna seguirle, prendere un buon taglio di carne ed un ottimo set di strumenti. Se avrete il meglio, le cose verranno bene per forza. Questo è il metodo di cottura più leggero che conosca. Ok. Si può grigliare. Oppure friggere. Guardate. Giusto. In questo modo il pollo sta cuocendo nel suo grasso. Mentre con il nostro sistema il grasso verrà fuori, dandovi piatti più sani e più leggeri. Vi presentiamo la più straordinaria tecnologia per la vostra cucina. Il 3D Power Wave. Fornito di sistema alogeno a risparmio energetico con distribuzione tridimensionale del calore. Un contenitore in vetro infrangibile con base antiscivolo e manici a termici. Un preciso regolatore di calore, un timer affidabile ed una maniglia con spegnimento automatico. Incluse avrete due griglie per cucinare in modo sano e leggero. Assolutamente gratis. Inoltre troverete questo manuale di istruzioni e tante esquisite ricette da fare a casa. Chiamate adesso ed ordinate questo fantastico sistema per cucinare in modo sano ed originale ad un prezzo lancio davvero unico. Non aspettate. Ordinate il vostro 3D Power Wave adesso. Ma la nostra offerta non finisce qui. Se chiamerete ora riceverete queste pratiche presine a Tenaglia in omaggio. Il 3D Power Wave. Cucinare da professionisti. Ors, adesso inforniamo. Non importa se sia una torta o un ciambellone. O se vogliate riscaldare o cuocere due, tre, quattro cornetti. Questo forno è l'ideale. Adesso vediamo. Programmi la temperatura ed il tempo per circa 15 minuti. Fai partire e voilà. Puoi farlo anche tu, Ors. Direi. Chiunque può farlo. Voglio sfidare una casalinga a cuocere la colazione della domenica. Cuocerla col più potente dei forni per un quarto d'ora. Non potreste mangiare nulla perché sarebbe tutto appena tiepido. Guarda qui, Ors. Sforna il ciambellone. Queste presine sono davvero pratiche. Eh già. Guardate, le prendi, le agganci sulla base e sforni il ciambellone. Perfetto. Guarda la crosta del ciambellone. È perfettamente dorata. E questo grazie ad un potente motore a 1400 Watt che produce calore alogeno combinato al sistema di diffusione tridimensionale. Con questo, Ors, otterrai grandi risultati. Giusto. È la soluzione perfetta. Nel nostro settore, l'efficienza, l'affidabilità e la precisione sono fondamentali. Per questo motivo usiamo i forni alogeni. E il 3D Power Wave ha la stessa assoluta qualità dei forni professionali in casa. Ed ora vogliamo stupire tutti. Qualcosa che non potrai fare con nessun altro strumento. Friggere con aria calda e fare un fritto molto più leggero. Avete sentito bene. Non useremo litri di olio caldo nella friggitrice. Se vogliamo usarlo ne basta un cucchiaio. Versiamone un pochino sulle patatine. Appena tagliate. O se vuoi anche surgelate, non devi scongelarle. Giratele nel contenitore e infilatele nel forno, signori e signori. Ora vedrete in azione per la prima volta una friggitrice con aria calda. Programmiamola a 200 gradi per 12 minuti. E quello che dovete fare è sedervi ed osservare come le vostre patatine diventino croccanti. È davvero incredibile, amici. Puoi cuocere torte, friggere patatine, preparare arrosti, grigliare il pesce, gratinare verdure e molto altro. Un pollo allo spiedo. E qui c'è uno squisito arrosto. E guardate questi cornetti. Dopo tre minuti, pronti da gustare. È davvero incredibile. Allora prendi subito il telefono e chiama adesso. Ordina il tuo 3D Power Wave. Indispensabile per la tua casa. Chiama ed ordinalo adesso. Niente come lui. Vi presentiamo la più straordinaria tecnologia per la vostra cucina. Il 3D Power Wave. Fornito di sistema alogeno a risparmio energetico con distribuzione tridimensionale del calore. Un contenitore in vetro infrangibile con base antiscivolo e manici a termici. Un preciso regolatore di calore. Un timer affidabile ed una maniglia con spegnimento automatico. Incluse avrete due griglie per cucinare in modo sano e leggero. Assolutamente gratis. Inoltre troverete questo manuale di istruzioni e tante squisite ricette da fare a casa. Chiamate adesso ed ordinate questo fantastico sistema per cucinare in modo sano ed originale ad un prezzo lancio davvero unico. Non aspettate. Ordinate il vostro 3D Power Wave adesso. Ma la nostra offerta non finisce qui. Se chiamerete ora riceverete queste pratiche presine a tenaglia in omaggio. Il 3D Power Wave. Cucinare da professionisti. Dai un'occhiata a questo pollo. Lo abbiamo cucinato per 20 minuti. Non l'abbiamo dovuto girare né ungere come al solito. E guarda, è perfettamente arrostito. Guarda qui. Questo affidabile motore sprigiona il calore alogeno su tre dimensioni ed ottiene una cottura perfetta. E quando vedete che la luce si spegne, signori e signori, significa che non c'è bisogno di altro calore. Risparmiate energia e quando c'è bisogno si accende di nuovo. Così da non bruciare nulla e darvi un piatto perfetto. Il segnale acustico vi dice che il vostro pollo è pronto. Si scioglierà in bocca. Vedrete. È squisito. Fuori la pelle croccante. E... Horst, di solito la carne resta secca. Ora guarda qui. Questo è il modo di cuocere un pollo. Fuori la pelle è croccante e dentro la carne è tenera e saporita. Mmm, assolutamente squisito. Si scioglie in bocca. Dovete provarlo. Quando dico versatilità, dico che posso trasformare uno spiado per il pollo in un forno per la pizza. Mettete la pizza congelata qui dentro, sopra il grill più grande. Posizionate il coperchio e impostate il forno a 200 gradi. Programmate il timer per circa 10 minuti e cuocete la pizza finché non è pronta. Potete interrompere la cottura ed il forno resterà programmato. Mettete sopra la mozzarella e ripartiamo da dove eravamo rimasti. Straordinario, Horst. Ecco perché anche i cornetti vengono come quelli del forno di una volta. Senza precottura. Un risultato perfetto in pochi minuti. Afferrali, sfornali e gustali. E ora, usando i 12 litri di capacità del contenitore, vi mostrerò come cuocere mezzo metro di costine di maiale. Non entrerà mai. Due metri. Sì, posso farlo. Due metri e mezzo. No, è impossibile. Da qui a qui. Farò tutte costine. Questo è tutto ciò che mi occorre. Abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci spazi. Li riempio tutti e guardate attentamente. Ora, con un solo movimento, metterò due metri e mezzo di carne nel forno. Chiudo il coperchio. Imposto su 250 gradi ed il timer. E quando saranno pronti, si spegnerà da solo. Torniamo al nostro fritto. Con un solo cucchiaio d'olio, le nostre patate fresche o surgelate saranno squisite. E non sono per niente grasse. Il calore alogeno, combinato con l'azione direzionata dell'aria calda, rende più croccanti, più leggere le vostre patatine fritte. Vi presentiamo la più straordinaria tecnologia per la vostra cucina, il 3D Power Wave. Fornito di sistema alogeno a risparmio energetico con distribuzione tridimensionale del calore. Un contenitore in vetro infrangibile con base antiscivolo e manici a termici. Un preciso regolatore di calore, un timer affidabile ed una maniglia con spegnimento automatico. Incluse avrete due griglie per cucinare in modo sano e leggero. Assolutamente gratis! Inoltre troverete questo manuale di istruzioni e tante squisite ricette da fare a casa. Chiamate adesso ed ordinate questo fantastico sistema per cucinare in modo sano ed originale ad un prezzo lancio davvero unico. Non aspettate! Ordinate il vostro 3D Power Wave adesso! Ma la nostra offerta non finisce qui. Se chiamerete ora riceverete queste pratiche presine a tenaglia in omaggio. Il 3D Power Wave. Cucinare da professionisti. E non dimenticate di chiedere al vostro operatore l'utilissimo set di espansione per il 3D Power Wave. L'anello di acciaio inossidabile e lo spiedo per il pollo che ti permetterà di trasformare il 3D Power Wave in un forno di grandi dimensioni. Ed inoltre questo piatto d'arrosto e questa fantastica griglia per cucinare, arrostire e friggere, leggero e senza grassi. Inclusa nel prezzo anche il piatto per gratinare e preparare squisite verdure. Ma c'è di più! Questa griglia verticale per cucinare tenere costine e per tostare rapidamente. E ancora 4 spiedini per fare grandi combinazioni di sapori. Ma aspettate! Ordinate adesso il vostro 3D Power Wave con il suo set di espansione e vi invieremo anche questo pratico sostegno per il coperchio assolutamente gratis! Niente come lui. Chiamate adesso! Il sistema a calore alogeno di 3D Power Wave è garantito come il migliore ed il più sano metodo di cottura. Semplicemente fantastico! Completamente sicuro, facile da pulire e salva spazio! Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta! Non aspettate! Chiamate adesso ed ordinate il vostro 3D Power Wave a questo fantastico prezzo lancio! Quello che vedrete ora è qualcosa di assolutamente straordinario. Il forno si pulisce da solo. Dovete solo mettere dentro ciò che avete usato fino adesso. Le griglie, le presine, proprio così. Aggiungere l'acqua ed il detersivo, chiudere il coperchio e programmare il timer per 10 minuti. E l'acqua inizia a ruotare, sgrassando a fondo il vetro. Poi la ventilazione asciuga ed igienizza. E lo rende pronto per nuove ricette. Grandioso! Adesso, Horst, devo chiederti un favore. Aiutami a mostrare al pubblico come possiamo riporre tutto qui dentro senza alcun problema. Va bene, Peppi, me lo hai già spiegato. Già! Dato che il forno di casa non vi servirà più per cucinare, utilizzatelo per riporre il 3D Power Wave con tutti gli accessori dentro. Aprite lo sportello, prendete il nostro fornetto, infilatelo e richiudete lo sportello. Guadagnerete spazio in cucina. Ehi, Peppi! Vediamo cosa hai preparato. È venuto bene? Horst, con il 3D Power Wave è un gioco da ragazzi. Tutto è possibile, signore e signori. Non puoi che essere soddisfatto. Lo adorerai. Per esempio, una bella pizza come in pizzeria. La mozzarella filante e la crosta croccante. Questo è il set d'espansione. Trasforma la capienza del forno da 12 a 18 litri. Guardate. Due maialini arrosto, squisiti e croccanti. Pollo grigliato, pollo arrosto, tutto è possibile, Horst. Dalle patatine fritte alle costine di maiale. Ehi, Horst, guarda le costine di maiale. Un vero record. Due metri e mezzo di costine perfettamente cotte. E tutto il grasso in eccesso scenderà sotto alla griglia, così che la carne non si cuocerà con dei grassi poco salutari. Questo è il primo e l'unico modo per cuocere leggero al 100%. E puoi fare anche di più. Cuoce su due livelli contemporaneamente. Dall'alto griglia, dal basso cuoce. Il sapore del pesce non passa alle verdure, grazie alla rotazione 3D del calore. I pori restano chiusi e il sapore resta nel pesce. Ora apriamo qui. Buono, gonfio e soffice grazie al sistema 3D. Dunque tutto quello che avete visto. Fantastico. Cuocere, arrostire, infornare, grigliare, friggere. Oggi potrete farlo con un solo strumento. E si spegnerà automaticamente quando la cottura è finita. Bene amici, se avete assistito a ciò che ho visto con i miei occhi, non vi resta calzare la cornetta, chiamare al numero sullo schermo ed ordinare adesso. Perché non c'è nulla che non possiate fare con il 3D Power Wave. È proprio lo strumento di cui avete bisogno in cucina. Allora prendete il telefono, chiamate ed ordinate adesso. E divertitevi ad usarlo. Vi presentiamo la più straordinaria tecnologia per la vostra cucina. Il 3D Power Wave. Fornito di sistema alogeno a risparmio energetico con distribuzione tridimensionale del calore. Un contenitore in vetro infrangibile con base antiscivolo e manici a termici. Un preciso regolatore di calore. Un timer affidabile ed una maniglia con spegnimento automatico. Incluse avrete due griglie per cucinare in modo sano e leggero. Assolutamente gratis. Inoltre troverete questo manuale di istruzioni e tante squisite ricette da fare a casa. Chiamate adesso ed ordinate questo fantastico sistema per cucinare in modo sano ed originale ad un prezzo lancio davvero unico. Non aspettate. Ordinate il vostro 3D Power Wave adesso. Ma la nostra offerta non finisce qui. Se chiamerete ora riceverete queste pratiche presine a tenaglia in omaggio. Il 3D Power Wave. Cucinare da professionisti. E non dimenticate di chiedere al vostro operatore l'utilissimo set di espansione per il 3D Power Wave. L'anello di acciaio inossidabile e lo spiedo per il pollo che ti permetterà di trasformare il 3D Power Wave in un forno di dimensioni. Ed inoltre questo piatto d'arrosto e questa fantastica griglia per cucinare e arrostire e friggere leggero e senza grassi. Inclusa nel prezzo anche il piatto per gratinare e preparare squisite verdure. Ma c'è di più. Questa griglia verticale per cucinare tenere costine e per tostare rapidamente. E ancora 4 spiedini per fare grandi combinazioni di sapori. Ma aspettate. Ordinate adesso il vostro 3D Power Wave con il suo set di espansione e vi invieremo anche questo pratico sostegno per il coperchio assolutamente gratis. Niente come lui. Chiamate adesso. Il sistema a calore alogeno di 3D Power Wave è garantito come il migliore ed il più sano metodo di cottura. Semplicemente fantastico. Completamente sicuro, facile da pulire e salva spazio. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta. Non aspettate. Chiamate adesso ed ordinate il vostro 3D Power Wave a questo fantastico prezzo lancio.